Francesco Grillo, qui si parla delle bugie che sono state dette in precedenza, cioè si poteva fare di più, non è stato fatto abbastanza. E poi c'è l'altro titolo che abbiamo letto, quello di libro, adesso lo vado a riprendere con il nostro touchscreen. Eccolo qua, niente vaccini, arrangiatevi, ecco il cambio di passo sulla profilassi e poi c'è appunto questa idea che l'antidoto va dappertutto. Allora, come ci siamo comportati rispetto al resto del mondo, d'Europa? Abbiamo raccontato diverse volte in queste giornate di Israele e della Gran Bretagna. La Gran Bretagna è disastrosa durante la gestione della prima ondata e poi adesso invece con un abbassamento dei nuovi casi di Covid del 40% in una settimana. Sì, allora il problema va diviso in due parti. Da una parte c'è un problema europeo e al di là di questi titoli sui giornali che richiamano delle responsabilità che probabilmente dovranno essere accertate dai magistrati, c'è il fatto che i paesi dell'Unione Europea sono tutti tra il 5 e il 7% della popolazione vaccinata rispetto a delle percentuali che arrivano quasi al 20% negli Stati Uniti, al 25% nel Regno Unito, che tra l'altro è uscito dall'Unione Europea proprio quando è cominciata il piano di vaccinazione e rispetto al 70% in Israele. Quindi ci sono stati dei problemi a livello europeo molto, molto, molto importanti. A livello italiano devo dire che l'errore più grosso, ma questo è stato fatto già in fase di contenimento della pandemia, è quello di non aver imposto, lo consentiva l'articolo 120 della Costituzione, un'unica linea che doveva essere una linea nazionale, centrale e quindi affiancare poi nella logistica anche l'esercito, come adesso sta pensando di fare il Presidente del Consiglio Draghi, alle strutture sanitarie. Il problema di aver affidato alle regioni anche la gestione di una emergenza come questa significa soprattutto aver fatto emergere dei criteri di vaccinazione completamente diversi tra regioni e questo veramente fa saltare la coesione nazionale perché in alcune regioni si vaccinano i magistrati, in altre gli ottantenni, quindi non si capisce assolutamente più niente. Però sono due problemi diversi, c'è un problema europeo e poi c'è un problema italiano.